Scegli di essere anche tu protagonista della transizione energetica per contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici e alla decarbonizzazione. Scegli di partecipare insieme a Enel Green Power alla realizzazione di impianti da fonte rinnovabile in Italia. Scegli di aderire alla campagna di raccolta fondi che consente di investire nelle energie rinnovabili. Scegli l'energia pulita e un futuro più sostenibile per creare valore e portare benefici concreti a te stesso, al tuo territorio e al pianeta. Fai la tua scelta. Scelta rinnovabile. Scelta rinnovabile.